Si chiama Anatoly Boiko, ma tutti lo conoscono come il Fabergé ucraino per le sue uova artisticamente decorate. Come il suo illustre ispiratore francese, che stupì la corte dello zar Alessandro di Russia, anche Boiko, con le sue realizzazioni, lascia a bocca aperta gli appassionati. L'uovo d'oca è aperto e al suo interno c'è un uovo di gallina. Anche questo è aperto e contiene a sua volta un uovo di quaglia. Questo è decorato con metalli e cristalli svarovski rossi e blu. Poi si apre e c'è un'icona dorata della Madre Divina. Da più di dieci anni l'artista ucraino sviluppa le tecniche spesso originali per realizzare le sue uova, che ormai si stanno affermando sul mercato dei collezionisti a prezzi che si aggirano sui 500 dollari. Un giorno ho iniziato a decorare le uova con la porcellana, poi ho usato il metallo e anno dopo anno ho sviluppato una tecnica personale sconosciuta al mondo e tale da permettermi di allungare un guscio, cosa che nessuno può fare. Le opere di Boiko, oltre a mietere consensi e riconoscimenti in Ucraina, cominciano a essere conosciute anche a livello internazionale, grazie soprattutto ai social networks. Ultima e in ordine di tempo a celebrarle, l'Associazione Mondiale degli Artisti che Lavorano sulle Uova, sul quesito e i monofatti di Anatoli, sono esposti in bella mostra.